Exoratics, oggi abbiamo qui con noi questa stupenda Citroën C4 Cactus, qui la troviamo in un allestimento Shine, si tratta di un diesel con cambio manuale immatricolato nel 2018 con 54.000 km e un 1.6 blocca di 100 CV. Cerchi del 17 in lega, bellissimi, di colore nero. L'auto è lunga 4,16 m per un'altezza di 1,49 m e una larghezza di 1,72 m. Come potete ben notare l'auto è prevista anche di sensori di parcheggio posteriori, bagagliaio con una capienza di 348 litri. Come vi dicevo appunto l'auto è stata immatricolata nel 2018, è un diesel manuale di colore nero. Gli interni sono comodissimi, classico di Citroën, interno molto comodo. Qui potete trovare schermo touch con cruscotto digitale, possibilità di regolazione del clima, all'interno del touch troverete navigatore, possibilità di connettervi alle varie app, quindi Bluetooth, Apple CarPlay e Android Auto. Qui c'è il limitatore di velocità, Cruise Control, con la possibilità di regolare il volume. Come per tutte le nostre auto, anche questa stupenda Citroën C4 Cactus la trovate disponibile sul nostro sito, perciò venite a trovarci www.ratix.com. Alla prossima!